è Calibra. Calibra è un potente software di gestione e lettura degli ebook, gestisce moltissimi formati, anche questo è multipiattaforma, quindi come per Sigi e come per LibreOffice funziona sui tre sistemi operativi, anche Calibra ha delle estensioni e quindi possiamo trovare in rete diversi plugin che aumentano le funzionalità di Calibra, ma già nella sua versione base ha degli strumenti molto ma molto interessanti. Chiudo un attimo questa, ve la faccio vedere dopo. Possiamo gestire i nostri ebook, quindi possiamo utilizzare Calibra per creare la nostra biblioteca personale e catalogare tutti i vari ebook che abbiamo, catalogarli per i suoi formati, per gli autori, le lingue e così via. Vi faccio vedere solo due funzionalità molto interessanti. La prima è la possibilità di convertire il libro, di convertire il libro digitale. In base al formato di input che abbiamo possiamo esportare il nostro ebook in un altro formato, vedete che ne gestisce tantissimi, sia quelli ideali che abbiamo detto all'inizio di questa video lezione, sia anche quelli che sostanzialmente non sarebbero ideali per un ebook o meglio, precisiamo, non sono ideali magari per la gestione con un e-reader, però magari per il pc anziché l'epub potrebbe essere interessante un file pdf o piuttosto che convertire il nostro ebook in docx e quindi poi elaborarlo con LibreOffice piuttosto che anche con Microsoft Office. Possiamo apportare diverse modifiche e quindi poi cliccando su ok otterremo l'esportazione nel formato che gli abbiamo richiesto e verrebbe poi aggiunto alla libreria l'elenco dei vari formati disponibili. L'altra funzionalità che trovo interessante, potrebbe essere una funzionalità interessante in ambito scolastico, è quella che troviamo sotto le preferenze di Calibre. Nella scheda delle preferenze troviamo la condivisione sulla rete. Se noi accediamo, vedete che possiamo configurare Calibre che funzioni come server. in questo momento è già avviato, se non l'avete mai avviato prima dovreste trovarlo in questa posizione, quindi avvia il server. Possiamo dirgli che porta a utilizzare, l'indirizzo IP, dopo vedremo cosa vuol dire. Potrei anche creare un accesso utente, gestisce solo un utente e una password, quindi potremo proteggere la nostra libreria, la nostra biblioteca personale e abbiamo anche la visualizzazione di un eventuale log per vedere cosa succede sulla rete che abbiamo utilizzato. Vedete che per accedere poi il mio nome host può essere o il nome a cui abbiamo dato il PC o semplicemente l'indirizzo IP del nostro PC nella rete. Avviamo il software in modalità server. Ok. Se andiamo su un browser potremmo scrivere, in questo caso sono sul mio PC in locale, quindi posso scrivere anche localhost, due punti, 8080 è la porta che avevamo messo configurata nelle preferenze. Se noi diamo invio, vedete che ci appare questa schermata di inizio che è l'home page di Calibra in modalità server e possiamo accedere ai nostri ebook. Se clicchiamo su tutti i libri vediamo che abbiamo i libri che sono gestiti tramite Calibra. li possiamo scaricare. Chiaramente se mettiamo un PC in rete, lo installiamo Calibra e lo facciamo partire come server, i vari dispositivi che si collegano alla stessa rete possono accedere al mio PC tramite browser e possono scaricare i vari ebook che troviamo su questo PC. Quindi creo sostanzialmente, ecco perché secondo me è una proposta interessante in ambito scolastico che ho fatto anche ad altre scuole, è quella proprio di avere una biblioteca scolastica o anche di classe personale dove io posso accedere e scaricare i vari libri. Chiaramente questi sono libri che non sono coperti da DRM ma sono di libero utilizzo tranne il primo che ho acquistato. Normalmente comunque se io condivido all'interno della classe i miei libri e posso scaricarli sul dispositivo che in quel momento si collega sul mio PC. Io mi sono collegato con Localhost 2.8080 perché sono in locale, ma se facessi finta di essere su un PC di rete potrei digitare il mio indirizzo di rete che è 192.168.10.10.2.8080 che è la porta proviamo e vedete che mi rimanda sempre in ogni caso alla schermata iniziale, all'home page di calibre. Grazie a tutti! Grazie a tutti